In questo nuovo video andiamo a vedere la mia ultima e unica operazione del mese di luglio, che era il long appunto sul petrolio, long che poi ho chiuso quando il mercato fondamentalmente ha invalidato quelle che sono state tutte le mie conferme operative e di tenuta. Ben ritrovato in questo nuovo video, sono sempre Damiano Zito, Press Action Trader indipendente, membro e collaboratore di questa community, che quella che vedi è Professione Trader, una rubrica dove racconto le mie operazioni di trading con un conto aperto come fase esperienziale del percorso di Accademia in Airforex. Per andare a raccontare questa, diciamo a rivedere questa operazione, vado a riprendere il diario di trading, eccolo qui, che appunto sul terzo trimestre di quest'anno vede questa operazione di acquisto sul petrolio, che aveva effettuato l'11 luglio su una prima conferma che era avvenuta in quella che era una struttura mensile settimanale che sembrava poter dare qualche spunto, insomma l'idea per andare su in termini di quotazioni, quindi di prezzo. Un'operazione dove ho investito 200 euro su un livello che era 74,67 che poi in realtà ho chiuso il 19 luglio a 79,10, andando quindi a incassare un interesse positivo del 7,80 euro perché c'era uno swap attivo su questo mercato, che insomma con il negativo insomma vanno a fare meno 66 euro di costo su questa operazione. Andiamola a vedere un po' sul grafico, quindi operazione che andiamo a vedere da dove stava arrivando, l'idea era diciamo un'idea di trading che veniva appunto dal recupero che sul settimanale si vede come questa gamba che recuperava dopo aver fatto falsa rottura di zona 76, ancora prima avevamo avuto da inizio anno questa struttura di mercato, aveva fatto un allungo, questo ritracciamento profondo appunto con falsa rottura in quest'area e questo diciamo questo allungo sul settimanale durato appunto 4-5 settimane che era, insomma aveva costruito anche un mensile, un mensile interessante in quel momento che era appunto il mensile di giugno 2024. Andando quindi sul giornaliero possiamo andare a vedere che dopo la convalida del mensile la prima informazione operativa, almeno per quanto riguarda insomma il mio metodo, il nostro metodo, è stata quella del 10 luglio, quindi questa conformazione grafica, quindi questo pattern di prezzo che è insomma una nostra strategia di ingresso TV e avevo deciso di fare, io qui ho fatto un ingresso praticamente limite, quindi un ritracciamento dopo la convalida di questo setup e mi ero messo quindi come dicevamo prima con uno stop a 74 e 67, quindi uno stop piuttosto ampio in termini di pips, di punti, quindi eravamo in questa zona, quindi adesso siamo vicini a questa zona che era, se andiamo a vedere, per come si era costruito questo long, praticamente da qui era ripartito il prezzo dopo la falsa rottura, si era appoggiato aveva fatto una prima base, poi ha fatto una seconda base, infine aveva fatto questa terza base. Essendo questo il primo setup operativo, confermativo di quella che era anche una situazione mensile che sembrava in quel momento interessante, ho deciso di mettermi con uno stop molto ampio andando a lavorare su le estensioni del mensile e del settimanale, considerando anche queste queste basi, questi swing di prezzo. Che cosa è successo? Già il giorno successivo, quindi la settimana, ha chiuso praticamente il venerdì con questo ribasso, questa candela che comunque annullava in quel momento la possibilità di un long, nel senso che eravamo comunque sotto questo livello di 82 e 30 dollari al barile, il prezzo viene giù e il 16 luglio chiude sotto sotto il setup di entrata, quindi il trigger confermativo che comunque poi è stato recuperato. Quindi la candela, questa candela qui del 16 si è confermata in quel momento come una candela trappola e quindi con questo recupero dava l'idea di poter recuperare. In questa situazione, se andiamo a vedere un po' le mie decisioni, io ho spostato il mio stop da qui a 78, non ho fatto incrementi perché eravamo ancora sotto questo livello, quindi sotto anche questo massimo, quindi alla rottura della candela di recupero, quindi confermativa di quella che in quel momento era una trap bar, comunque avrei voluto vedere un ritorno sopra questo massimo, un consolidamento eventualmente sopra gli 82 dollari. Così non è stato, tant'è che il 18 luglio il mercato chiude, ancora ribassista, ma senza andare ad annullare questo setup, il 19 luglio, quindi nella giornata sempre di venerdì in questo caso, il mercato viene giù e invalida la conferma quindi della tenuta del setup. Se andiamo quindi a vedere un po' la storia decisionale, eccola qui. Effettivamente io il 18 luglio verso il 13.50 ho spostato lo stop da, come dicevo, a 78 dollari al barile, quindi praticamente ho utilizzato il 50% della vola di recupero e quindi mi sono spostato, se lo andiamo a vedere sul grafico, grafico, mentre poi ho chiuso la sera alle 19, quindi del venerdì, vista praticamente l'aumento di vola ribassista e come stavo chiedendo ormai il settimanale. Andiamolo un po' a vedere, quindi lo stop praticamente io l'ho spostato andando a ragionare sull'aumento di questa volatilità, quindi più o meno andando a prendere il 50% della volatilità di questa doppia candela di recupero e poi invece il mercato comunque è andato giù, ha invalidato e quindi fondamentalmente ho chiuso la mia operazione. Quindi il mercato che effettivamente, adesso torniamo un po' sul settimanale, comunque ha invalidato quello che era praticamente il progetto anche di medio periodo, almeno per quanto mi riguarda al momento, siamo sotto, adesso siamo sì sotto gli 80, ma siamo anche sotto area 76, un'area importante, quindi situazione che per quanto mi riguarda è completamente cambiata. Se vediamo un po' il mercato, possiamo notare come effettivamente, sì questo è il settimanale, abbiamo avuto e abbiamo al momento un mercato che è sicuramente stato nel passato, anche andando a vedere, dal 2022, 2021 è stato un mercato long, poi dal 2023 che cosa è successo? Ha lateralizzato, ha creato delle congestioni e poi ha creato queste dinamiche di long, poi c'è stato questo forte ritracciamento, adesso il mercato sta comunque compressando anche in questo caso, quindi massimo, minimo, massimo, minimi qui, adesso abbiamo questo massimo, quindi adesso non è detto che il mercato riesca a rompere questi minimi, può anche darsi, però al momento, insomma, situazione che per quanto mi riguarda a questo punto torna fondamentalmente in una di quelle situazioni che effettivamente preferisco o preferisco di meno e quindi non ho fatto altro, anzi, si poteva semmai seguire, si può seguire al ribasso per capire un po' se questa tendenza ha veramente, come dire, con continuazione, comunque c'è spazio almeno fino alla zona dei minimi, dei minimi attuali di giugno, quindi quelli mensili. Al momento, diciamo, l'ultima informazione operativa è proprio quella sempre di venerdì, nel discorso, 26 luglio, che è uno short, questa candela è una FTV short che è stata convalidata ieri, adesso il mercato è ancora debole, quindi sembra dare la possibilità di andare ancora al ribasso. Quindi, al momento, io non ho fatto ulteriori operazioni in questo mese, avevo chi ha seguito le altre operazioni operazioni nel mese di giugno, ci sono state due operazioni con un bel costo, quindi sono stato un pochino più tranquillo con l'operatività e ci sono state le occasioni sugli indici che non ho colto e al momento, quindi comunque attendo, attendo per qualcosa di sano, comunque di, comunque allineato con il metodo e che sia in qualche modo un trade sul quale posso operare tranquillamente sempre gestendo il mio rischio. Probabilmente questa rubrica per qualche settimana si fermerà per ragioni di ferie, bisogno anche di staccare un po' dai grafici, quindi probabilmente ci vedremo tra qualche settimana o forse con qualche video e eventualmente, insomma, possiamo continuare a discutere eventualmente nei commenti di eventuali altre considerazioni. Io, come al solito, vi ringrazio, vi saluto se avete visto il video fino in fondo, vi invito sempre a lasciare un mi piace per sostenere il nostro canale e la divulgazione dei nostri contenuti e eventualmente lasciare un commento sotto questo video per farmi sapere, farci sapere cosa invece avete fatto voi su questo mercato, altri mercati, insomma, per confrontarci. Come al solito vi saluto, vi auguro buon trading ed eventualmente anche buone ferie estive. Ciao, a presto!